Os 2021 la fiera della ripartenza continua ci troviamo lo stand della torrefazione Moac S.P.A. una torrefazione siciliana che opera a partire da Ragusa e siamo in compagnia del suo amministratore Alessandro Spadola Alessandro buongiorno e bentornato buongiorno a tutti grazie sono oltre 18 mesi che non ci vedevamo a causa dell'emergenza sanitaria purtroppo ma nel frattempo tu mi spiegavi pochi minuti fa prima di accendere la telecamera che nel frattempo appunto avete fatto tantissimo il vostro ufficio ricerca e sviluppo ha continuato a lavorare e anche con grandi attività e qui oggi spieghiamo che cosa avete da presentare al pubblico in realtà non ci siamo mai fermati si sono fermati i volumi non abbiamo più venduto perché i locali si sono fermati in azienda abbiamo continuato a lavorare abbiamo studiato quanto più possibile per realizzare dei progetti che fossero dei progetti innovativi alla ripartenza diciamo che ci siamo riusciti infatti in questa manifestazione che ci vede felicissimi di ritornare a fare una fiera perché ci è mancato tanto presentiamo il progetto for you il progetto for you consiste nella realizzazione di una capsula compostabile mono e bidose e di una macchina che ha un'elettronica molto evoluta all'interno che permette di poter erogare il nostro caffè sfruttandone la qualità al massimo possibile quindi un prodotto di alta qualità la capsula è una capsula completamente compostabile quindi oggi ci avviciniamo a quello che sono le tendenze del momento ed è anche poi un credo nostro noi un mondo più pulito lo vogliamo e lo vogliamo fortemente questo progetto anche a livello estetico è stato curato nei minimi dettagli la macchina è stata disegnata da Odo Fioravanti che è un compasso d'oro quindi abbiamo cercato di curare all'interno di questo progetto quanto più possibile tutti i dettagli dalla qualità all'estetica alla salvaguardia anche del business perché chi distribuirà questo progetto ha tutta una serie di tutele nella gestione primo tra tutti il fatto che la capsula è a sistema chiuso la capsula è a sistema chiuso sia per forma che per elettronica e dicevo appunto perché è l'unica cosa che hai dimenticato di citare nella lunga serie di piccole notizie legate a questo progetto che è interessantissimo rivolto al mercato out of home e soprattutto a favore di coloro che gestiscono postazioni per la distribuzione automatica gli uffici, il micro business ma anche per tutto ciò che è micro oreca parliamo di bed and breakfast, di residence e così via esatto, confermo, appunto avevo dimenticato a spiegare chi erano il target a cui ci rivolgevamo in realtà dall'ufficio al micro oreca saranno forniti con questo tipo di progetto all'interno di questo progetto non si farà solo caffè perché la macchina servirà per fare anche altri prodotti, altre bevande orzo, ginseng, tè in foglia Alessandro ma non vi siete fermati qui? Assolutamente no, abbiamo lavorato per inserire una serie di altri formati nel mondo delle monoporzioni e ne abbiamo fatti diversi in realtà questi 18 mesi ci hanno visto impegnati prima nello studio dei progetti e poi nella realizzazione quando abbiamo installato all'interno dell'azienda diversi nuovi impianti che ci permettono di poter seguire il cliente nel mondo della monoporzione quasi a 360 gradi E allora per chiunque abbia seguito questa intervista negli ultimi 5 minuti e desideri avere maggiori informazioni sui progetti che ormai sono diventati delle realizzazioni a tutti gli effetti qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per entrare in contatto diretto con voi Basta scrivere a info.caffemoac.com e immediatamente verrete contattati dal nostro personale per darvi tutte le informazioni possibili Alessandro grazie per il preziosissimo contributo in bocca al lupo per questa nuova avventura che si presenta assolutamente innovativa sarà certamente un successo grazie grazie a te e grazie a tutti voi arrivederci grazie